Voglio ricordare due persone che ci hanno lasciato in questa settimana e che avevano la Paganese nel cuore. Domenica scorsa mi è mancata Anna Rita Santilli, una ragazza di 38 anni, quindi la vediamo in questa foto, la salutiamo, seguì la Paganese e ci ha lasciato così in modo prematuro e poi la settimana si è chiusa ancora peggio con l'addio proprio ieri pomeriggio di Luigi Pepe, Gigino, storico, tifoso della Paganese, lo ricorderete per la sua imponente mole che era presente sempre allo stadio Marcello Torre, anche custode dello stadio Marcello Torre, davvero una presenza che a ralle grave dava sempre con la sua voce inimitabile la sua presenza al fianco della Paganese. Ad Anna Rita Santilli e al Mirico Gigino va il nostro saluto finale. Bene, nel frattempo voglio ricordare anche Alfonso Attianese, si è svolto il secondo trofeo, c'è stata la finalissima al Palazzurro l'altra sera, dunque abbiamo chiuso con il ricordo di persone care che avevano la Paganese nel cuore.